si sente puzza di pesce avete il mare inquinato buongiorno amici dello zoccolo duro buongiorno buongiorno ovviamente scherzo oggi si tifa tutti sampi doria più doria che sampi più sampi che doria perché giocano contro i cugini quindi forza doria leale forza doria leale allora ragazzuoli finalmente si gioca ieri abbiamo visto questo torino palma e verona cagliari devo dire che il parma mi fa sempre meno paura questo verona invece questo verona fa paura ragazzi ieri comunque 2 a 0 subito bam 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 nel verona non ho mai capito chi segna chi è il bomber alla fine ogni volta se ieri era il turno lì di carmine ma lì a verona ogni tanto segna uno ogni tanto segna un altro d'altro voglio difendere il papero io lo chiamo il papero fabio borini perché che espulsione è quella ragazzi cioè se espulsioni ma per me non sono espulsioni cioè se io arrivo sulla palla lungo e sto andando a prendere la palla che l'avversario non è neanche guardato e poi prendo anche l'avversario adesso non voglio difendere l'espulsione di rebic perché comunque era gioco pericoloso però ragazzi cioè per buttare fuori un giocatore cartellino rosso ci deve essere della cattiveria dell'intenzionalità non può essere che uno sta stoppando un pallone poi è sicuramente come si dice quando uno è scoordinato è sicuramente scoordinato scomposto chiamatelo come vi pare però per dare un cartellino rosso so che da regolamento c'è però questo regolamento secondo me bisogna un guardarlo ieri con i borini per me non era rosso mai ma nemmeno giallo se proprio volete dire se proprio la volete tutta però gli era andato comunque l'hanno portata a casa nonostante quello l'hanno portata a casa il cagliari ragazzi senza joao pedro senza pavoletti senza angolan fa fatica è normale comunque complimenti al verona ma volevo parlare un'altra cosa oggi volevo fare un discorso intanto mi stavo per dimenticare prima di iniziare tutti quelli che vogliono risparmiare sulla bolletta di luce gas vi lascio sotto la mail di mirco scrivetegli voglio pagare di meno sono stanco di pagare centinaia di migliaia di migliaia di euro delle bollette perché adesso le alzeranno tutte perché tutte ste tasse casa integrazione disoccupazione questi soldi che sta tirando fuori l'imps secondo voi da dove arriveranno vi alzeranno tutto le bollette le cose quindi se non volete spendere ma volete risparmiare scrivete a mirco detto questo voglio parlare dell'essere milanista perché adesso sai come sto guardando il canale del mio amico tringa che vi ho detto iscrivetevi al canale mio amico tringa no lui è un cuore rossonero mi ha fatto venire in mente che noi milanisti tifosi rossoneri siamo dei tifosi diversi cioè non possiamo essere paragonati a nessun'altra squadra forse al real madrid forse ultimamente negli ultimi 30 anni al barcellona e poi basta cioè le altre squadre non diciamo la juventus in italia diciamo le altre squadre non possono capire quello che capiamo noi cioè quando arriva un giocatore del milan il tifoso rosso nero è già lamentoso è già è già sottotono cioè noi siamo cresciuti perlomeno quelli della mia età noi siamo cresciuti da van basten gulit rai karsavicevic papen palloni d'oro su palloni d'oro uea pirlo kakà shevchenko rui costa nesta sta cioè non ne posso nemmeno nemmeno dirli tutti perché mi ci vuole una giornata per dire talmente quanti fenomeni avevamo che per noi i giocatori di oggi ma tutti tutti quali chiunque arriva non lo prendiamo mai con l'entusiasmo giusto siamo sempre un po scontenti anche tu dici abbiamo i brava bene i bra lo rispettano tutti però in tutti gli altri giocatori anche per dirti lukaku senza parlarne male ma se fosse venuto al milan la gente sì c'è gente che dice magari fosse venuto al milan ma la gente non lo prendeva per quello che realmente è con l'entusiasmo come l'hanno accolto di là perché noi siamo abituati a un palato più fine a un palato più cioè un lautaro martinez noi quando parlavamo di giovani noi eravamo pato quindi capisci che quelli di adesso ma anche quelli che comunque giocano che hanno un valore loro per noi e facciamo fatica e invece dobbiamo entrare in una nuova ottica noi tifosi rossoneri ovviamente sempre a volere il meglio però dobbiamo capire che siamo in un'epoca diversa non siamo più negli anni 90 dove purtroppo è dove purtroppo dove per fortuna eravamo i campioni dell'universo conosciuto purtroppo adesso è proprio un altro periodo ci sono altre tipologie di giocatori i giocatori non sono più quelli una volta attaccati e quindi dobbiamo entrare in questa nuova filosofia ovviamente per quanto mi riguarda sempre a livello top di gamma quindi comunque i migliori in circolazione cosa che attualmente non abbiamo e dobbiamo entrare in questa nuova filosofia poi il progetto milan diciamo che è una via di mezzo una via di mezzo tra quello che vorrei io che è il top di gamma arno e tutti i campioni i più tu quanto più forte preso tu per me così che milan deve essere così tra quello e il fallimento totale prendiamo i giocatori per venderli un fondo di qua di là c'è la via di mezzo no attualmente col progetto ragnarok noi stiamo entrando in una filosofia diversa quindi adesso prendiamo un manager allenatore che crea un progetto dove pian piano nel giro di due tre anni noi dovremmo tornare ai vertici io non è che sono contento di questi due tre anni che torneremo ai vertici ma purtroppo la pagliacciata del perpele finanziario e le nuove regole ti impongono sta roba maledetti che non sono altro e sempre li maledirò e protesterò contro questa pagliacciata del perpele finanziario fatta per cristallizzare le squadre quindi noi ci dobbiamo riportare in quell'area lì per poi andare a comprare i campioni eccetera la juve la vedo in difficoltà l'inter è in difficoltà dalla nascita frecciatina sempre però dobbiamo riportarci lì questo è adesso si parla anche di sto prestito di jovic sapete che io non vado matto non è una roba che mi piace proprio per tornare al discorso di prima però nel gioco di ragnarok tu devi creare la pianta di gioco stabile col suo gioco e poi pian piano boom ci butti il campione boom ci butti il campione alcuni già ce li abbiamo ragazzi perché hai già donnarumma e già tu puoi partire da donnarumma romagnoli teo benasser già comunque stai creando quella squadra attualmente diciamoci la verità non abbiamo neanche la panchina però pian piano dobbiamo costruire questo adesso la parte importante è da costruire lì davanti rebic e jovic sono solo un inizio ragazzi saranno di transizione se mai dovesse arrivare jovic poi anche lì andrà comprato è il campione è il champions è il top della gamma capito sono stato chiaro oggi in questi discorsi ci sono altre perché io sento anche altre squadre dire e no perché la maglia di questa squadra non faccio i nomi un po per tante la maglia di una squadra pesa quindi un giocatore quando arriva con sta maglia ma non è come la maglia del mina ragazzi cioè altre squadre sono abituate a non vincerle champions a non fare le finali a non a portare a casa a zero titoli e il mina no noi no o perlomeno noi tifosi no che siamo nati in quest'epoca quindi non può mai essere la stessa cosa mai può essere la stessa cosa quindi quando diciamo la maglia pesa non tutte pesano nello stesso modo certo ovvio che la maglia di una squadra grande pesa più di una maglia di una squadra medio piccola quello è ovvio ma non ha lo stesso peso del milan la maglia del milan è la seconda maglia più più pesante al mondo forse dopo il real quindi cerchiamo anche noi tifosi di entrare in questo nuovo progetto progetto e di supportare la squadra gli voglio credere gli voglio credere almeno finché non se ne vanno meglio te cazzini si veniamo presto va bene ragazzuoli oggi ho fatto un discorsino un po così e domenica avevo voglia di parlare un po di tifo un po di questo da domani si riparte formazione si gioca con lecce speriamo bene ma sono ottimista per la partita di lecce dagli ragazzi vi saluti ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.